Hanno incontrato molta curiosità le carovane di 100 Renault Twingo che hanno sfilato nelle settimane scorse per le vie di Roma e Milano. Un autentico carosello dimostrativo delle capacità di grande cittadina della nuova compatta francese, servito per avviare l'ingresso nella flotta di noleggio della Europe Car. Agilità, visibilità, spazio interno e per la prima volta cinque porte. Con un angolo di visibilità record di 12 gradi le nuove Twingo regaleranno un punto di vista ineguagliabile per contemplare la bellezza del Colosseo in tutta la sua maestosità. Con Twingo, Renault ha voluto sottolineare che una vettura compatta ma capiente è perfettamente in grado di integrarsi con l'ambiente cittadino, assolvendo ai compiti quotidiani di routine, come aiutare a trasportare la spesa, gli acquisti dello shopping e noi stessi, magari con altri tre amici. E se per caso ci si ritrovasse in una strada chiusa, basterà fare inversione, nulla di più facile, grazie al raggio di stersata record di 4,3 metri che consente alla nuova piccola Twingo di girare nello spazio di un fazzoletto. Che siano la Madonnina, San Pietro o il Colosseo insomma, con gli edifici significativi Twingo si trova in perfetta armonia. Al criterio di chi siede al volante, usarla nel modo migliore e più rispettoso per l'ambiente che circonda monumenti e città.